Ok, benvenuti alla quarta lezione di basi di Blender vedremo ora come fare una texturizzazione cioè come applicare una texture a un oggetto Blender, una Mesh allora una Mesh useremo come riferimento adesso una Mesh molto semplice che è un cubo, i concetti comunque saranno poi analoghi anche per Mesh più complesse qui la cosa più importante sarà di capire che c'è una differenza fra la texture che metteremo sopra questo cubo e la modalità in cui la texture viene avvolta attorno al cubo allora le regole di avvolgimento di una texture attorno al cubo vengono chiamate regole di UV Mapping dunque vediamo adesso come si vede la UV Map allora per vedere la UV Map occorre andare fondamentalmente facciamo per semplicità, andiamo in modalità di default qua e qui andiamo in UV Editing vedete che qui sulla sinistra abbiamo una parte dedicata all'UV Map che è un foglio bidimensionale che possiamo rappresentare in testa mentalmente come una specie di carta regalo che poi andrà a essere avvolta in un certo modo attorno al nostro oggetto qui valgono le stesse regole quindi posso aumentare la dimensione della carta regalo come voglio ma soprattutto devo creare all'inizio dei tempi una modalità di UV Map cioè un modo di avvolgere quindi dobbiamo andare per fare questa operazione in Elite Mode premo Tab andando in Tab posso fare l'UV Map abbiamo un'opzione specifica qua UV Mapping e qui possiamo fare Unwrap e possiamo scegliere quale Unwrap fare allora uno degli Unwrap più tipici è lo Smart Smart vuol dire che lui cerca di spacchettare il cubo nel modo più facile per poterlo disegnare facendo in questo modo vedete che lui ha preso tutte le sei facce del cubo e le ha svolte e le ha fatte diventare fondamentalmente sei facce piane nel nostro disegno in questo modo quando qui metteremo un'immagine quindi ad esempio possiamo caricare un'immagine Open Image e possiamo prendere una, proprio questa ed è questa un'immagine ed è questa, immaginate questo pacco regalo in cui però la parte superiore del pacco della carta regalo verrà scartata perché non verrà associata nel nostro oggetto questo è un po' uno spreco quindi se noi volessimo migliorare l'UV Map possiamo agire a livello di questo di qua sopra e quindi selezionare sempre con le regole come useremo in Edit Mode su un cubo quindi AA oppure B selezioniamo la parte di sopra e poi GY per tirarla su e poi possiamo prendere anche questa parte qua GY e tirarla a metà circa metà così ok allora vedete quindi quello che succederà è che questo verrà messo su una faccia in particolare se vogliamo sapere quale faccia verrà associata è sufficiente che selezioniamo per esempio questa faccia quindi vedremo che su questa faccia verrà visualizzato questo pezzettino qua su questa faccia verrà visualizzato questo pezzo questo sarà la parte di sotto il mulino evidentemente sarà da questa parte neanche quindi sarà su questa faccia qua sotto eccolo qua il mulino quindi sarà dal basso per capire su quale per vedere avere un po' un'immagine visiva di come il pacco la carta regala viene spacchettata sul nostro cubo possiamo abbiamo due sistemi più semplice sarebbe questo in cui si richiede il viewport shading texture che però ha un problema che per vedere la texture occorre che ci sia la luce nella direzione in cui state osservando ed è che lui fa vedere le parti che sono correntemente illuminate ma non le parti che stanno alla parte opposta alla luce per ovviare questo inconveniente c'è un secondo modo più sicuro quindi torniamo in data solid apriamo qua col più la parte del display cerchiamo display e abilitiamo eccolo qua textured solid ok a questo punto vedete che posso vedere tutta la texturizzazione che sto facendo di questo oggetto quindi in particolare allora qui se vogliamo fare in modo tale che ci sia per capirci meglio possiamo abilitare una modalità che è questa che tiene in sincronia le cose che selezioniamo quindi se noi qui seleziamo una faccia vedete che la faccia del mulino mi fa vedere la faccia sulla destra se io clicco qua vedete che mi ha selezionato questa che è la faccia del mio dove compare appunto questa proiezione quindi praticamente questa immagine viene texturizzata su questo oggetto quindi la prima cosa che dobbiamo fare quando dobbiamo texturizzare è trovare una conveniente UV map cioè questo modo di spacchettamento ovviamente dobbiamo avere un'immagine però l'elemento aggiunto e capire dove sia questa come fare l'UV map ora una volta che abbiamo fatto l'UV map torniamo nel nostro menu di default quindi abbiamo il nostro oggetto come facciamo a sapere che è stato che ha ricevuto delle istruzioni di impacchettamento possiamo vederlo da questa tab object data e vedete che a questo punto è comparso un meccanismo di wrapping che si chiama UV map non è allora se noi facessimo l'export adesso verso second life questa cosa non funzionerebbe perché non funzionerebbe perché adesso è soltanto una cosa visuale in Blender il fatto di aver visto la texture però bisogna associarla proprio a un materiale con l'immagine giusta a questo cubo per capire se il materiale è stato associato una delle tecniche più efficaci in Blender è premere F12 per vedere la foto dell'oggetto se lo vedete bianco come in questo caso vuol dire che non è stato associato un materiale con la texture quindi dobbiamo procedere quindi avendo selezionato il nostro oggetto andiamo pure in object mode andiamo sul materiale vedete che c'è già un materiale andiamo ancora oltre sulla texture che è questa sulla texture c'è già una texture però è una texture vuota ora noi aggiungiamo invece image quindi aggiungiamo un'immagine questa texture e soprattutto gli diciamo che questa immagine è associata a un impacchettamento quindi una UV map e la UV map gli selezioniamo UV map quella di prima che abbiamo fatto poi dobbiamo associarci proprio l'immagine quindi facciamo quella di prima si chiamava screen last ok vedete che facendo questa operazione noi abbiamo compiuto questa associazione fra l'oggetto l'UV map e l'immagine che è la cosa che ci interessa di più per esserne sicuri facciamo F12 e vedete facendo F12 l'oggetto viene visto con la sua UV map quindi abbiamo ottenuto la texturizzazione del nostro oggetto e questo diciamo è un modo di texturizzare in cui l'immagine si spalma in vario modo sul nostro sul nostro cubo si può eventualmente fare un altro tipo di texturizzazione per cui su ogni faccia venga proiettata la stessa immagine questa è un po' quello che fa l'UV map di default quindi torniamo nel UV editing questa andiamo in edit mode selezioniamo tutte le facce facciamo U anche un'abbreviazione e facciamo reset facendo reset viene resetato tutto l'UV map e in particolare viene ripresa l'UV map di default in questo caso ogni faccia riceverà tutta l'immagine la tornando andiamo in default quindi qui l'UV map è rimasta quella di prima non ce ne sono altre abbiamo cambiato l'UV map quindi se ne facciamo l'F12 vedete che ogni faccia ha tutta tutta l'immagine completa ora quando noi vogliamo esportare questa cosa su Second Life dobbiamo essere in object mode possibilmente fare file export collada quindi ecco export collada facendo export collada ricordiamoci di esportare only selected e qui esportiamo il nostro cubo video punto da e nelle versioni nuove di Blender ci saranno altre opzioni tipo export per Second Life va bene una qualunque ok eccoci in Second Life e proviamo a importare il cubo di prima quindi per farlo se c'è Firestorm proviamo a fare avatar c'è qua sopra comunque dove avete l'upload del mesh model nel mesh model qui andiamo dove abbiamo salvato prima vi ho detto che si chiama il cubo video fatto il 16 facciamo open e vedete che abbiamo il nostro banale cubo quindi lo proviamo a girare è un cubo niente di speciale cliccando su texture vedete che si vede la texture e l'immagine che abbiamo fatto ora il consiglio che do è possibile è possibile in teoria nelle upload options dire di includere le textures ma questa operazione abbiamo visto che non funziona benissimo almeno con blender 261 non funzionava benissimo quindi consiglio di non utilizzarla quindi consiglio di limitarvi a tirare semplicemente su il vostro cubo qui seguite le solite indicazioni quindi il default nel caso di questo cubo non è proprio il massimo gli diciamo di usare anche al medium di usare quello ad alta risoluzione questo è il load e il low questo diciamo anche questo di usare il load sopra ok altrimenti non si vede niente e poi facciamo il calcolo dei pesi adesso costa 11 cilindri in dollari facciamo l'upload del nostro cubo mesh questo eccolo qua cubo mesh rinominiamolo cubo corso texturizzazione allora nel momento in cui rezziamo questo cubo eccolo vedete che non c'è la texture sopra ora la texture che ci finisce sopra dipende da quella che ci mettiamo possiamo rimetterci quella con quella che abbiamo costruito il che sarebbe l'ideale vuol dire che dobbiamo fare un upload a parte di quella texture oppure possiamo prendere una texture del nostro inventory tanto per quello che e per come abbiamo fatto l'uvmap basta qualunque texture per esempio per esempio guardiamo un po' questa no questa qui non si capisce moltissima quindi prendiamone una questa per esempio vabbè giusto per vedere questa qui è una mia textura dall'inventory quindi questa textura per metterla sul nostro oggetto basta trascinargliela sopra e vedete che usa la texture con la texturizzazione che è stata definita esattamente dalla nostra condizione di texturing ora questo esempio può aprire stupidino perché fare un cubo del genere in second life con i primi normali è una banalità ma diciamo che la base per capire come funziona il meccanismo di texturizzazione quindi ci sentiamo poi alla prossima quinta puntata per texturizzazione un pochino più complessa vi saluto buonasera un pochino un pochino un pochino un pochino un pochino